Si prova indignazione quando ci si trova davanti ai monumenti che vengono deturpati e che comunque restano lì senza essere modificati e migliorati. Stiamo parlando della facciata della Chiesa del Soccorso che Gerardo Calise ha mostrato a tutti attraverso foto sui social. E c'è stata grande risposta di indignazione, no Gerardo? Almeno quella lì sì, mi auguro che ci sia una risposta più valida nel poter mettere a posto questo che è uno dei monumenti più importanti dell'isola d'Ischia. Monumento che al contrario degli altri, soprattutto del castello, del fungo di Lacco, della torre di San D'Angelo, è un monumento fatto dagli uomini e come tale deve essere curato dagli uomini preposti. Sul soccorso noi ci siamo nati, ci siamo vissuti, ogni giorno ci andiamo, non solo noi foriani, ma tantissima gente che vengono dall'altra parte dell'isola a godersi soprattutto d'inverno gli ultimi raggi del sole, del caldo. Non può stare in quelle condizioni. Mi è stato detto che stanno aspettando il finanziamento, ma poi nel frattempo che fa? Se ne cade la Chiesa in attesa dei finanziamenti.